Penso che la sentenza combinata in primo grado dalla giustizia sportiva per il Teramo e per la città di Teramo sia assolutamente punitiva, esagerata e fuori dimensione, anche alla luce di pronunciamenti analoghi della giustizia sportiva anche con pagini della stessa serie. Confido molto nell'appello, purtroppo la giustizia sportiva è così, è indiziaria e sugli indizi che chiaramente si possono costruire anche cose oscene come questa. Io sono certo che il Teramo alla fine riuscirà, i dirigenti del Teramo riusciranno a dimostrare la loro innocenza e le straneità, i fatti contestati, il problema adesso è salvare il futuro sportivo della Teramo Calcio. In città c'è un po' di rabbia, anche un po' di rassegnazione, amarezza, a questo punto cosa potrà accadere? Io spero sempre nell'essere fiducioso, ottimismo per questa giustizia, sicuramente il Teramo tornerà in serie B perché merita la serie B, più che altro perché dobbiamo essere favorevoli, anche perché il mondo del calcio deve essere appunto pulito, quindi loro ci devono dimostrare quello appunto che speriamo che sia così la realtà. Il Teramo è triste, è sicuramente triste perché dopo questi anni arrivare in serie B credo che sia un traguardo importante. Campitelli si è immeritato sul campo, il traguardo, i giocatori puri, io spero appunto di una giustizia pulita. Dobbito anche per i giovani, i giovani ragazzi che vogliono fare calcio, che vogliono fare sport e che vogliono appunto vedere un'Italia pulita. Io spero che sia questo il messaggio che fa passato appunto ai magistrati che dovranno vedere appunto l'appello. Io dico a tutti i Teramani, 31, andiamo a Roma perché è importante far conoscere a tutti che Teramo è una città viva ed è unita. Grazie a tutti.